zelcor presenta gli oriundi del vuoto voce narrante il fantasma del web musiche di zero copyright free music tra le mura del bimaristan institute ho trascorso in totale 17 anni fortunatamente non come internato era un luogo triste ma del resto quale manicomio non lo è oggi li chiamano ospedali psichiatrici o anche istituti di igiene mentale e ufimismi che non cambiano la sostanza ma devo essere onesto tirando le somme non si stava poi così male e credo che molti pazienti che vi soggiornarono per poco per molto potrebbero confermarvelo nei miei ricordi ho impressa questa immagine i sonnolenti fasci di luce d'oro che scivolavano obliqui dai quattro finestroni panoramici della sala comune illuminando le teste dei ricoverati mentre componevano puzzle e tavolini o giocavano a carte leggevano o fumavano fissando le forme composte dalle volute di fumo nell'area immobile era il 1966 e ancora non era vietato fumare le strutture di quel tipo nei ristoranti e nei cinema non fosse stato per le uniformi azzurrine e per le cicatrici che ornavano le teste di alcuni si sarebbe potuto scambiare quel posto per il salone di un club privato era persino elegante a suo modo con piante in vaso e pannelli di acero che ricoprivano la parete a mezza altezza sicuramente non era il luogo migliore del mondo ma al suo interno non si respirava l'opprimente senso di disagio e maltrattamenti che era invece la norma in altre realtà simili le cure erano quelle che erano ma il personale rispettava i pazienti che venivano lavati ben nutriti e accuditi con affetto quelli considerati meno gravi potevano trascorrere il tempo nel grande parco che circondava l'edificio giocando a tennis o bighellonando lungo i sentirini che si snodavano all'ombra della pineta c'era persino una piccola piscina e una volta a settimana un pulmino portava tutti in una fattoria poco distante a fare pet therapy qui non vi turberò con oscure storie di persone maltrattate la vita si svolgeva tranquilla al bimaristan fin quando non arrivò milo forman era piuttosto raro che il dottor chandler ci riunisse per parlarci dell'imminente arrivo di un paziente e dal momento che tal usanza era messa in atto solo quando il nuovo arrivato era parecchio problematico fumo tutti invasi da una certa apprezzione con il suo tono professionale pacato ci spiegò che forman aveva 27 anni e sarebbe stato accolto nell'istituto la settimana prossima portato dai suoi stessi genitori non ci stupimmo quando venimmo a sapere che si trattava di un ippi non era il primo che terminava il suo trip in una stanza del bimaristan gli eredi della beat generation del decennio passato avevano ripudiato la realtà per rifugiarsi in un immaginifico mondo di fiori e amore raggiungibile solo per sentire i lastricati di lsd e mescalina alla fine dei quali non si trovava la città di oz bensì il portone di qualche ospedale psichiatrico altre informazioni sul nostro paziente le venimmo a sapere da fonti meno autorevoli del dottor chandler ovvero le pagine di inside view un giornalaccio da supermercato che tanto gli internati quanto il personale leggevano quasi fosse la bibbia e in un certo qual modo lo era dal momento che trattava di avvenimenti impossibili e morti ammazzati ricordo bene la sera in cui nelly nelson una delle infermiere lesse a tutti noi l'articolo che riguardava i trascorsi di forman con un tono tra lo scandalizzato e l'eccitato se il nome di forma non mi era del tutto nuovo era perché apparteneva a una prestigiosa famiglia di salem gente potente piena di soldi che di sicuro vedeva come una vergogna il fatto che il loro unico rampollo avesse interrotto gli studi di legge al college per dedicarsi a una vita vagabonda lasciandosi crescere i capelli fino alle natiche e abbandonando i completi di buona sartoria per indossare sformate tuniche in tessuto batik i coniugi forman avevano visto il figlio un'ultima volta nel 62 facendo l'uscire dalla prigione dove era finito a seguito di una parata contro la guerra in vietnam tale manifestazione pacifica negli intenti si era conclusa con una cinquantina di feriti e un morto più un numero imprecisato di auto danneggiate e vetrine distrutte all'epoca il padre di forman aveva tentato di far inservire il figlio ponendogli un ultimatum o tornava a casa dando un taglionetto a droghe compagnie disdicevoli e filosofia da perdente o la prossima volta che la polizia le avesse chiamati per comunicargli che era finito nuovamente nei guai si sarebbero limitati a riagganciare come risposta milo aveva centrato la lente sinistra degli occhiali paterni con un grumo di saliva per i quattro anni successivi avevano perso del tutto le tracce di milo il signor forman quando venne intervistato non nascose che pensava che ormai il figlio vegetasse come una larva in qualche comune o fosse persino morto di overdose sul sedile posteriore di un flower power bus invece in una grottesca parodia della parabola del figlio il prodigo milo aveva fatto ritorno alla bella villa georgiana di genitori lasciandoli basiti e non poco preoccupati dato le sue atroci condizioni per citare le parole riportate sulla rivista il giovanotto sembrava appena sfuggito da un campo di prigionia a tal punto mal ridotto che gli stessi conugi forman avevano faticato a riconoscerlo mentre ascoltavo nelli pensavo che certamente il cronista avesse ben calcato sul pedale del sensazionalistico ma quando milo forman in persona oltrepassò la soglia del bimaristan scoprì che forse il resoconto sul suo stato di salute era stato persino edulcorato su quelle pagine erano visibili le foto un bel ragazzo nulla da dire una versione bionda e più muscolosa di jim morrison niente di più dissimile dal relitto umano che fece il suo ingresso attraverso i doppi battenti accasciato su una carrozzina un susseguirsi di tre mori sotto una pelle friabile come carta velina che ricopriva membra esili e deboli la folta chioma era diventata la rada peluria di una pesca il viso sbarbato era pieno di croste per me era quasi impossibile guardarlo negli occhi davano l'idea malsana di poterli rotolare giù dalle orbite come fossero biglie e per di più temevo che la follia che vi lampeggiava dentro mi contaminasse era la prima volta che avevamo a che fare con una simile corruzione del corpo e della mente e sono certo che persino i medici ne furono largamente impressionati di sicuro una visitina al povero milo forman avrebbe fatto passare a molti la voglia di trastullarsi con cannabis eroina e altre sostanze tuttavia come scoprimmo in seguito le droghe non centravano con lo stato di salute del paziente almeno non del tutto naturalmente i colloqui che tenne con il dottor chendler furono segreti riferiti soltanto alle autorità che si occuparono dell'intricato caso dietro al ritorno a casa di milo ma era chiaro che inside view aveva sul libro paga alcuni agenti del distretto a giudicare dalla fuga di notizie che puntualmente finivano stampate sulle sue pagine strabordanti di scandali omicidi e malcostume giornalmente ci trovavamo nell'area riservata al personale sedute a cerchio attorno a nelly nelson ascoltando la sua voce squillante attraverso l'area offuscata dal fumo di sigaretta non si trattava della commovente storia di un ex ipi che deluso da una parentesi di accessi e droghe aveva deciso di riabbracciare i genitori quella di milo era più la ghiacciante memoriali di una mosca intrappolata dal ragno che riesce a svincolarsi dalla sua prigione di seta un attimo prima di finire divorata viva a quanto ne so milo forman fu il primo e unico ospite del mimaristan a voler essere internato di sua stessa volontà dopo il ricongiungimento con la famiglia le cose non erano andate serenamente per qualche settimana i forman avevano fatto un viso a cattivo gioco pensando che i malesseri che affliggevano il figlio fossero le ovvie conseguenze di un lungo periodo di insalubri bagordi il ragazzo però era stato meno ottimista di loro e sapeva che c'era di più molto di più a seguito di repentine crisi di panico manie di persecuzione e allucinazioni così vivide e tremende da indurla stati catatonici milo aveva chiesto ai genitori di essere condotto in clinica sarebbe stato al sicuro lì era la sua enigmatica dichiarazione era stato piuttosto difficile per quelli che succubarono del caso forman ricostruire gli ultimi anni dell'errabonda esistenza di milo il ragazzo sembrava assai reticente nel raccontare cosa avesse fatto dove fosse andato e in compagnia di chi il perpetuo stato ansioso e confusionale nel quale versava faceva dubitare delle sue parole rendendo arduo scintere il delirio dai fatti reali tale distinzione era sconosciuta ai cronisti di inside view che avevano dato alle stampe qualsiasi affermazione uscita dalle labbra del povero uomo riportata da qualche agente poco professionale la vicenda era il genere di argomento che mandava in sollucero il lettore medio di quella rivista dopo la sua scarcerazione a seguito della parata pacifista finita male milo aveva cambiato aria in autostop era giunto fino a san francisco unendosi a varie comunità di figlie dei fiori fu proprio mentre bivacava lungo la west coast vivendo alla giornata in un sopore di alcol e stupefacenti che era entrato in contatto con un gruppo di spostati che si autodefinivano gli oriundi del vuoto il nome non aveva suggerito nulla agli inquirenti in quegli anni ribollenti sette e comunità new age nascevano e morivano in continuazione al punto che raccapezzarsi era impossibile ce n'erano veramente per tutti i gusti gente che davano sua interpretazione a delle sacre scritture comunità che si basavano su testi induisti persino qualcuno che tentava di fondare religioni sul signore degli anelli meri pretesti per giustificare uno smodato consumo di droghe ovviamente gli oriundi del vuoto tuttavia sembravano essersi spinti ancora oltre la ferneticante testimonianza di milo forman riportava di un centinaio di uomini e donne persuasi di essere discendenti di entità cosmiche chiamate vril creature spirituali e perfette che abitavano il vuoto tra le intercapedini del cosmo lo scopo di questo culto era quello di spogliare gli adepti dei propri corpi materiali vessillo di impurità e corruzione per poter liberare la loro parte ancestrale divina tornando in contatto con quel vuoto amorevole e inalterato al quale sentivano di appartenere spiegato così per quanto insensato poteva trattarsi di qualcosa di innocente una tipica utopia hippie per rifiutare il mondo e tutte le sue nefandezze sicuramente doveva averlo creduto anche milo almeno fin quando non aveva avuto sotto gli occhi le prove che il credo degli oriundi era ben più che mistica da quattro soldi e spinelli passati di mano in mano attorno a un fuoco ciò che aveva visto l'aveva annichilito dal terrore ci sono storie così sporche che ti restano appiccicate come carta moschicida più cerchi di distogliere la mente da esse e più ti restano incollate il cervello credo sia per quello che giornalacci come inside view vendono tanto bene e non conoscono crisi in ognuno di noi si cela un lato morboso che brama quel tipo di avvenimenti e non è mai sazio mio malgrado finì per appassionarmi a quel caso ricordo i turni serali seduto in guardiola facendo scorrere lo sguardo su quegli articoli sentendomi goloso e sudicio al contempo come mi capitava da ragazzino di fronte alle immagini di un giornaletto porno da quei rotocalchi appresi che la polizia indagò sulla setta degli oriundi convinta di sollevare un vespaio ma arrivò tardi le isolate fattorie dove il gruppo si radunava vennero trovate vuote abbandonate le uniche testimonianze di presenza umana in quei luoghi furono bottiglie d'alcolici vuote montagnoli di piatti di plastica e strani indecifrabili figure dipinte sulle pareti molte di queste erano state sbrigativamente occultate con secchiate di vernice ma altre erano ancora visibili e alcune erano riportate sulla rivista parevano il genere di quadro che da lì e picasso avrebbero potuto realizzare dopo un'ingente dose di lsd mostruose impossibile trovare un'altra definizione purtroppo o forse per fortuna milo forman non volle o non poter rivelare altro sulle sconvolgenti attività e sui rituali inquietanti praticati da quel culto non so per certo che il dottor chendler e altri due psichiatri dell'istituto tentarono con molto tatto ed esperienza a indurlo a parlare ma non ottennero che tremori incontrollabili dondolì e farfogliamenti imbevuti di terrore pur essendo abituati ad avere a che fare con menti incrinate milo ci lasciava tutti sconcertati cosa poteva ridurre la mente di una persona sana a un simile specchio fracassato davvero era stata qualche droga a bruciare i suoi poveri neuroni o c'era anche dell'altro qualcosa di oscuro e terrificante molti di noi me compreso eravamo convinti il dal senso e purtroppo il tempo ce ne diede conferma facevo il turno di notte che l'anonimo orologio appeso sopra la bacheca della guardiola segnava l'una e venti il silenzio saturava i corridoi del bimaristan il buio colmava le sale ricreative solo alcune zone erano illuminate anderson il mio collega fissava l'immagine di un film con john wayne sullo schermo di un televisore portatile nel bel mezzo di una canita sparatoria contro un gruppo di pelle rossa sussultammo violentemente quando attaccarono quei latrati l'istituto non era il genere di manicomio dove le urla erano qualcosa di usuale perciò ci spaventammo molto ma ripensarci adesso penso che grida del genere avrebbero scosso anche gente abituata a lavorare in posti chiassosi non sembravano neanche umane ricordo l'occhiata di sbigottito terrore che ci scambiamo poi anderson si chienò sull'interfono per chiamare il medico di turno mentre io mi gettavo fuori dalla guardiola inoltrandomi nel corridoio con le sole di gomma che scricchiolavano sul linoleum il mazzo di chiavi che mi sferragliava sull'anca nella mia memoria è un momento irreale nelle porte delle stanze dei pazienti erano notevolmente spesse ma le urla di forman filtravano chiare e sonore trovando eco sull'alto soffitto arrivato lì davanti sbirciai dalla finestrella di vetro rinforzato non vidi nulla la stanza era buia e quei lamenti isterici sembravano arrivare dal vuoto siderale misi mano alle chiavi ma esitai se mi avevano assunto al bimaristan non era solo per distribuire pasti e assicurarmi che ogni ospite prendesse la sua brava razione di caramelline della gioia come tra quelle mura chiamavano di psicofarmaci ma anche perché il mio corpo era capace di riempire e tendere per bene la stoffa dell'uniforme qualità più che apprezzabile in un luogo dove vengono radunate decine di persone potenzialmente pericolose eppure per la prima volta in vita mia non mi fidai dei miei muscoli e della mia stazza milo era uno scricciolo in confronto a me e dopo la sua esperienza con gli oriundi del vuoto era diventato così debole da doversi spostare quasi sempre su una sedia a rotelle ma quelle urla quelle urla erano così animalesche così prive di controllo che mi bloccarono cosa mi sarei trovato di fronte una volta entrato che genere di spettacolo avrei offerto ai miei occhi quando la luce si sarebbe accesa un povero matto sconvolto da un incubo che si dava nella sua stessa orina o qualcosa che avrebbe potuto ridurmi come lui dall'interno le gride proseguirono e io resta immobile paralizzato dal panico un rapido scalpiccio mi fece voltare vidi anderson e il medico correre al mio indirizzo i volti bianchi e preoccupati sotto la luce delle plafoniere dietro di loro più cauta e spaventata stava arrivando l'infermiera nelli le mani che le si torcevano tra i seni la loro presenza mi diede coraggio infilei la chiave e spinsi la porta cercando l'interruttore sul muro la luce giallastra del lampadario rivelò una scena che ci colpì con un pugno in faccia milo forman non era più una persona ma un gomitolo disfatto un insieme di membra che si contorcevano come suo scheletro fosse di gomma non avevo mai visto una crisi convulsiva di proporzioni tali e neanche il medico giudicare dalla sua espressione lenzuola e cuscino erano schizzati di sangue se mi avessero detto che qualcuno era entrato lì dentro e aveva appestato milo ci avrei creduto ma tutte le ferite che scorgevamo sul suo corpo se le era causate da solo sebbene ciò lo scoprimo solo giorni dopo quando lo stesso milo formano lo rivelò al dottor cender in un colloquio perché lo fece beh semplice sentiva il vuoto dentro di lui che si espandeva che lo chiamava e cercava proprio come era successo con gli altri oriundi e aveva cercato ossessivamente di cavarselo dal corpo da quella notte e per i 15 giorni seguenti la quiete del bimaristan fu prepotentemente soppiantata da un periodo che ricordo ancora con disagio fu proprio come trovarsi in un di cui famigerati manicomi di inizio secolo l'atmosfera era tesa i pazienti nervosi e noi del personale ci trovavamo ad affrontare qualcosa di totalmente imprevisto fino a quel momento nessuno di noi aveva dato credito agli articoli di side view perlomeno pensavamo che come al solito i giornalisti avessero lievitato la faccenda con l'inventiva macarola tanto cara ai fruitori della rivista ora però i dubbi si stavano insinuando nei nostri pensieri era davvero realistico supporre che da qualche parte una misteriosa setta plagiasse a tal punto i suoi adepti da renderli schiavi di ossessioni così devastanti inizialmente i farmaci riuscirono a calmare milo forman ma con l'andare del tempo sviluppò una tenace e repentina resistenza dosi che avrebbero tramortito un elefante riuscivano a tenerlo tranquillo per qualche ora prima che riprendesse a spremere fuori dai polmoni urla di terrore artigliandosi con le unghie come se avvertisse insetti zampettarli sotto la pelle se arrivò la decisione di legarlo temendo che potesse procurarsi danni seri era il primo paziente che ci obbligava a quella soluzione e persino il dottor cender solitamente calmo e preparato a tutto dava l'idea di trovarsi in ocche troppo tempestose pure per lui credo che quel che lo turbava e chi impinseriva anche tutti noi era che per quanto assurdo potesse sembrare milo non dava l'idea di essere pazzo il suo orrore e la sua agitazione erano così puri così cristallini che era difficile immaginare che fossero causati solo da un guasto del cervello da fantasie malate che avevano preso il sopravvento purtroppo non faccio alcuno sforzo per rammentarmi della sua voce che riechigiava nella notte lungo il corridoio i lamenti coi quali supplicava che gli amputassimo una mano o una gamba o un braccio o che gli venissero cavati gli occhi perché sentiva che il vuoto li stava pian piano colmando e tutto vivido dentro di me come fosse successo ieri neppure allora sembravano i vaneggiamenti di un folle ma reali e richieste di aiuto da parte di chi si trova sul ciglio di un orrore inimmaginabile ripeteva per ore che aveva visto dentro il vuoto e che non vi aveva scorto né la pace né l'armonia che gli erano state promesse ma qualcosa di mostruoso irripetibile qualcosa che incantava le genti affinché gli si concedessero spontaneamente in un olocausto non era un luogo strellava disperato milo forman ma una cosa vivente una cosa cieca dalle infinite bocche e ogni bocca sbagliava di fame perpetua quando ululava quelle frasi mi venivano in mente degli spaventosi affreschi e scoperti dalla polizia californiana e tutto sembrava assumere un senso sempre che in casi come questo di senso si possa parlare quel liquido infinito susseguirsi di altri zannuti quel brulicare di griffi e di altre cose che non riesco neanche a descrivere possibile che fosse stato realizzato prendendo spunto da qualcosa di vero la mia mente si contorgeva al solo sopporlo come si può vivere con la consapevolezza che una cosa del genere esista che là fuori in qualche piega dello spazio del tempo si annidi un titanico parassita affamato già sarebbe difficile anche solo accettare una cosa simile ma averla intravista sentirla chiamarti percepirne la presenza attorno a te forse persino dentro di te se davvero Miloforma non era pazzo allora non potevo far altro che provare per lui una infinita compassione dio solo sa cosa dovette soffrire in quell'ultima terribile notte se questa fosse una storia inventata uno di quei racconti che da ragazzo amavo leggere a lumi di torcia elettrica su weird tales vi direi che la notte in cui Miloforma vide concretizzarsi i suoi più oscuri terrori era cupa e temporalesca con le fronde del parco che si piegavano sotto la sferza della pioggia e la luce di fulmini che avvampava le nuvole invece era una fosa nottata di fine luglio faceva caldo così caldo che dovemmo spalancare molte finestre nella vana speranza che questo generasse un po di corrente nell'istituto il ronzare di ventilatori creava un brusio perpetuo intrappolato nei corridoi e nelle sale paziente e personale manifestavano la stessa indolenza era come se tutti avessero assunto le caramelle della gioia quel giorno pigri e svogliate ci spostavamo a passo di sonnambulo l'unico che invece esprimeva la solita macabra vivacità era Milo che legato nel letto della sua stanza non fece che lamentarsi tutto il giorno come era solito fare quasi ci stavamo abituando quasi in realtà a forza di gridare la voce lisera arrochita in maniera spettrale rendendolo pressoché incapace di produrre parole comprensibili il che non era per nulla un miglioramento vero adesso lo sudiva molto meno ma dava i brividi quando bisognava procedere davanti alla porta della sua stanza ascoltando quel tono rugginoso che gemeva frasi incongrue eravamo arrivati al punto di odiarlo lo so è terribile a dirsi ma non riuscivamo a sopportare la sua presenza infermieri portantini psichiatri persino i pazienti maledicevano il giorno in cui quel disgraziato aveva varcato i portoni del bimaristan dopo tanti anni sono giunto alla conclusione che la credine da noi manifestata verso miro fosse un riflesso dell'impotenza dal momento che ogni terapia farmacologica si era rivelato un fiasco per la prima volta il dottor chendler e la sua equip di consumati esploratori della mente umana si trovavano di fronte a qualcosa che non sapevano indagare qualcosa che sicuramente li spaventava perché Milo Forman non era pazzo ero in guardiola con Anderson e quei pannelli di plexiglass trattenevano l'odore dei nostri corpi accaldati la stoffa degli uniformi non era certo in materiali più traspiranti in commercio mi concentravo sulle immagini del televisore portatile di Anderson continuamente distratto dai rivoletti di sudore che al pari di dita calde e liquide mi facevano in solletico sotto le braccia lungo i fianchi e giù per la schiena come da un altro universo il rocco laterale di Milo riecheggiava dal fondo del corridoio Anderson nonostante fosse vietato dal regolamento aveva alzato il volume della tv per coprire quella voce snervante e io non me la senti dubiettare dovevano essere le due del mattino non ricordo quel che invece è marchiato nella mia memoria e l'improvvisa sensazione di pericolo che mi colmò il cuore e mi sollevò i peli come un plotone sull'attenti mi voltai verso il collega mentre lui si stava girando verso di me e comprese dal suo sguardo che era vinto dal mio medesimo timore un secondo dopo qualcosa attraversò il corridoio colmandolo dal pavimento al soffitto niente di visibile ma fu come il violento passaggio di un colpo d'aria la guardiola fremette con un bruseo metallico e una lunga crepa bianca comparve su uno dei pannelli percorrendolo obliquamente da un'intelaiatura all'altra il volume della tv si distorse in versi gracchianti sfrigolii abbassando lo sguardo notai che sullo schermo l'immagine erano un groviglio sussultante di nevischio per un secondo traumatico mi parve di intravedere qualcosa sotto quelle strisce isteriche un qualcosa di simile dipinti realizzati dagli oriundi del vuoto ma molto più concreto più realistico forse se fosse durato solo pochi istanti in più il mio cervello avrebbe subito chissà quali danni ma per fortuna l'apparecchio si spense con un sonoro schiocco elettrico emettendo un ricciolo di fumo dal fondo del corridoio alla voce di milo forman attaccò a emettere una serie di suoni che non posso descrivere come urla somigliavano più allo stridore di un vecchio cancello avevano un che di spaventosamente metallico una sfumatura quasi elettrica non immaginavo neppure lontanamente che un essere umano potesse produrre suoni del genere ci lanciamo fuori dalla guardiola e dopo alcuni metri in sincronia perfetta ci arrestammo di nuovo lo sguardo mio e di enderson si agganciarono e non ci fu bisogno di parole per capire che non avremmo osato muovere un passo in più non volevamo aprire la porta oltre la quale udivamo milo strellare agitarsi selvaggiamente nel suo letto qualunque cosa fosse lì con lui perché di sicuro non era solo noi non volevamo vederla ne andava della nostra sanità mentale solo passivamente mi rese conto che le porte delle altre stanze quelle non chiuse a chiave per ragioni di sicurezza si stavano aprendo un dopo l'altra e che i pazienti facevano a capolino tanti volti bianchi come il caglio e occhi sbarrati di orrore e ci lampeggiavano attorno l'ultima cosa che notai furono i vetri appartenuti alla finestrella per mezzo della quale era possibile controllare la camera di milo erano sparsi sul pavimento quasi che all'interno una tremenda pressione avesse fatto scoppiare il pannello sopraggiunse il blackout e udì molte voci trasalire piagnocolare in quel buio improvviso ma non quella di milo che si era spenta insieme alle luci dell'intero edificio in tutto restammo immersi nell'oscurità per cinque secondi al massimo ma ci parve un anno intero nessuno fiatò e sono piuttosto certo che nessuno osò muoversi o cambiare posizione in quel trepidante lasso di tempo dal soffitto venne un più luminoso e poi una dopo l'altra le plafoniere tornarono ad accendersi emettendo un debole ronzio qualunque cosa fosse arrivata adesso era andata via tornata in quel vuoto tra i mondi che l'aveva generata poco per volta gran parte del personale si raccolse attorno all'uscio della stanza di milo forman dal rettangolo vuoto della finestrella sulla porta si scorgeva solo oscurità guardavamo la soglia e condividevamo occhiate cariche di tensione avremmo potuto rimanere lì in eterno quando fece un passo in avanti tutti fremettero agì rapidamente senza dar tempo alla paura di bloccarmi o farmi cambiare idea le chiavi mi tintinnarono in mano la serratura scattò e quando abbassai la maniglia venni punto al palmo da una minuscola folgore di elettricità statica apri la porta di slancio e fui dentro respirando quell'aria puzzolente di sudore orine di un sentore strano simile all'odore agli acio dell'ozono durante un temporale abbassai l'interruttore ma la luce non si accese ogni modo non servì il bagliore che scivolava oltre la porta illuminava la stanza sufficienza affinché potessi vedere il letto era messo di traverso come se a furi di agitarsi il paziente l'avesse spostato vedevo le cinghie usate per legarla alle sbarre laterali il pigiama la forma che il corpo aveva impresso sul materasso ma non lui era sparito cosa ne fu di Milo Forman non lo so così come non lo seppero mai i miei colleghi il dottor Chandler e la polizia che aprì l'inchiesta per l'istituto non fu un bel periodo fumo indagati interrogati e credo che volessero spremersi affinché rivelassimo qualche oscuro retroscena di esperimenti illegali e pazienti rinchiusi nelle cantine ma dopo lunghi mesi l'interesse prese a sgonfiarsi non sapevano come Milo avesse fatto a fuggire o chi l'avesse portato via ma se non altro conclusero che nessuno di noi era colpevole e non potevano produrre prove che mostrassero il contrario ovviamente l'episodio fu un lauto banchetto per il lettore di Inside View che riportò tutto due giorni dopo l'avvenimento il giornalista affermò che l'autore di quelle scioccanti rivelazioni era una persona molto vicino all'istituto che desiderava mantenere l'anonimato ma ho sempre avuto il sospetto piuttosto tenace che fosse stata Nelly Nelson a spifferare tutto per una volta credo che fra tutti solo quelli di Inside View intuirono la realtà o ci andarono davvero vicini e concludo questa orribile storia con le parole di chiusura dell'articolo che conservo insieme ad altri in un album di ritagli in una torre da notte d'estate Milo Forman fu inghiottito da quello stesso spaventoso Nirvana che lui e gli oriundi del vuoto avevano così intensamente cercato di QTSS Sous-titrage ST' 501 ... 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